Ben ritrovati e ben ritrovati! Beh, oggi c'è un pizzico di emozione nelle mie parole perché inizia ufficialmente una nuova avventura professionale per il sottoscritto alla guida del bianconero.com con la carica di direttore editoriale spalleggiato dall'ottimo Cristiano Corbo e da un team giovane, motivato, affamato, volenteroso e che ha già ottenuto importantissimi risultati. Perché il bianconero è da tempo un sito di riferimento per i tanti tifosi giuventini sparsi nel mondo e per cui spero che si possa portare avanti questo lavoro all'insegna dell'informazione di qualità. A tal proposito, lunedì alle 17 sui nostri canali pubblicheremo un'intervista esclusiva con un mostro sacro del passato giuventino. Per il resto, qua su YouTube non cambierà la mia funzione. Questa è una community che si sta allargando in maniera esponenziale e il fatto che oggi sia diventato ufficialmente il direttore editoriale bianconero.com, secondo me, ci unisce maggiormente. Non che a gol fosse più complicato, eccetera, eccetera, però cosa ci appassiona? Qual è la nostra passione in comune? La Juventus e quindi ora ho bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno, che significa dare fiducia al bianconero.com. Noi faremo di tutto per conquistare le vostre simpatie, lavorando duramente, lavorando con serietà, però spero davvero che appunto il bianconero possa entrare di diritto nei vostri pensieri quotidiani e che poi, osservando minuziosamente il nostro sito internet, l'esclamazione possa essere, ecco, questo è un sito di qualità. Non esisterebbe complimento migliore. Allora, la mia firma è arrivata oggi ed è anche questione di ore, magari mentre proprio sto parlando, quella di Tiago Motta con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Questo annuncio, direi, imminente. La giornata di oggi dovrebbe, potrebbe essere seriamente quella della firma, ma ciò che conta è che arrivi l'annuncio. Io me lo aspetto nei prossimi giorni, vediamo tra domani e dopodomani cosa succede, ma me lo aspetto in questa settimana, prima che finisca questa settimana. E sono molto, molto gasato. Uno, perché ritengo che Tiago Motta sia il miglior allenatore possibile per sviluppare il progetto che ha in mente la Juventus. E poi, perché vedo tante cose che quantomeno sulla carta mi stanno convincendo, faccio riferimento alle strategie di mercato, perché prima che poi ci fosse l'ultima partita dello scorso campionato, Juventus-Monza, noi sapevamo perfettamente che la Juventus avesse trovato un accordo con i Brianzoli per prendere Di Gregorio. avevamo iniziato a ipotizzare che il partente potesse essere Chesni per un discorso esclusivamente o prettamente monetario. Ecco, Chesni che si sta avvicinando a grandissimi passi all'Al Nasr, quindi con un passaggio ormai quasi imminente in Arabia Saudita. È un'altra cosa che ha molto senso, perché per un calciatore ampiamente over 30, che prende 7 milioni netti e magari da qui puoi anche prendere qualche soldino per non generare una minusvalenza bilancio, che sarebbe bassa, perché non voglio dire cifra a caso, ma il residuo a bilancio squadre di Tec è basso. Ecco, questo significa programmare. Poi, non è detto che Di Gregorio riuscirà a ripetere le geste di Chesni, auspichiamo che sia così, perché per me il Polacco è un grandissimo portiere, l'ho dimostrato anche negli ultimi giorni in nazionale. Però, se uno crede che Di Gregorio abbia le caratteristiche necessarie per costruire la manovra in determinata maniera, che possa rappresentare il futuro della Juventus e quindi difendere i pali per tot anni, questa è logica, è logica pura ed è altrettanto logico che la Juventus, tra Chesni e Perin, cerchi di togliersi l'ingaggio del primo che è estremamente più impattante. Tra l'altro, se tutto Andradama, ovvero il passaggio di Chesni alla Nasr con un possibile contratto biennale, a peso davvero dorissimo, non d'oro, la Juventus, da quello che ho intuito, vuole quantomeno fare un più uno sul contratto di Mattia Perin, che attualmente scade il 30 giugno 2025. E quindi porterebbe avanti il progetto iniziale di Gregorio. Titolare, lo sappiamo ampiamente, Perin dice, ma di qualità, con la possibilità che poi giochi la Coppa Italia, la Final Four di Supercoppa, sicuramente anche qualche partita in campionato, perché ci sono tante gare, giochi ogni tre giorni, si è impegnato in cinque competizioni e il turnover è miratissimo, specialmente con Tiago Motta che lo fa in maniera radicale. Poi sono curioso di vedere quali saranno le sue decisioni per quanto riguarda l'undici iniziale a Torino, ma chi ha seguito un po' il Bologna e chi ha avuto i calciatori a Bologna al fantacalcio, sa che Tiago Motta spesso e volentieri cambiava anche 7, 8, 11esimi di partita in partita. Poi l'altro fronte molto caldo, quindi Shesny, Alnazr, sempre più vicini, mettiamola così, questo è il titolo giornalistico. Vediamo se in queste ore la Juve riesce anche a chiudere per Douglas Luiz, centropista fortissimo della Stoneville, un giocatore che mi piace molto, un giocatore che sa fare più cose a centrocampo e che mi sembra che abbia ancora ampi margini di miglioramento, e questo è fondamentale. E con la Juve il discorso è apertissimo, un discorso che include anche Wes McKennie e Ealing, che sono due giocatori che vanno in scarenza il 30 giugno 2025. Per quanto guarda McKennie, anche qui lo raccontiamo ormai da mesi, distanza altissima fin da subito dai primi contatti tra la richiesta dell'entourage e l'idea della Juventus. Quindi non è che puoi tergiversare oltre misure e rischiare magari di perdere il calciatore. Devi provare a valorizzarlo e in questo caso per Douglas Luiz sarebbe un'ottima valorizzazione perché porteresti a casa un giocatore di livello. Ealing un po' mi spiacerebbe perché non ho ben compreso come mai nell'ultima stagione con le partite orrende di Kostic. Cioè Allegri non si è affidato, anche fidato di più di questo calciatore che poi quando ha giocato le ultime ha anche fatto molto bene. Però durante i mesi si erano anche bloccati i discorsi per il rinnovo, a un certo punto sono diventati proprio inesistenti. Magari ci può essere anche la volontà, a parte detto interessato, di tornare a casa perché lui è un giocatore inglese che era cresciuto nelle giovanili del Chelsea prima di trasferirsi alla corte della vecchia signora e più con Guaglio che andrebbe nelle casse della Stonbilla. Ricordiamo che questo club non è l'unico partente alla Premier League che deve fare un po' di cassa per rientrare nei parametri delle regole economiche che poi sono le linee guida a cui devono sottostare tutte le società consumatori differenti di campionato in campionato ma trovare il binomio competitività, sostenibilità è la chiave di lettura principale praticamente per tutti. Quindi Tiago Motta firma imminentissima, ribadisco, magari mentre sto parlando pubblicando questo video l'ha già fatto e con altrettanto annuncio imminente e sempre in settimana. Scesni viaggia spedito verso l'Al Nasr per un ricchissimo contratto biennale. Ecco, io avevo detto una settimana fa che era un po' notitubante ad immaginare che Scesni potesse accettare in relazione alle sue parole nei mesi scorsi proprio a giudicare, se vogliamo, un po' pesantemente il mondo calcistico saudita. Però evidentemente hai capito che con l'arrivo di Gregorio avrebbe fatto panchina e quindi non sei più gradito e quindi al massimo saresti rimasto un anno ti arriva l'offertona, hai i tuoi anni, vai a monetizzare al massimo e quindi capisco che anche in questo caso il motto sia principalmente uno Business is business. Ricapitolando, la mia firma con il bianco e nero, tutto fatto. Ufficiale, grazie ancora per i tanti messaggi che mi avete mandato sui vari social. Scesni si avvicina al mondo saudita e ciò poi porterebbe anche la Juventus a organizzare rapidamente le visite mediche di Gregorio con il Monza tutto fatto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto 18 milioni più 2 di bonus e intanto procede il dialogo tra Juve e Aston Villa per Douglas Lewis da una parte e Wes McKenney e Ealing più con guaglio dall'altra. Vedremo come andrà a finire, voi però mi raccomando. Leggete il bianco e nero e iscrivetevi a questo canale attivando la campagna notifica e lasciando un bel like. Grazie, come sempre.